Con la consegna degli attestati di partecipazione si è concluso l'Executive Master in Digital Marketing organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito delle attività di formazione promosse dal PID, punto di impresa digitale di Chieti Pescara, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio e l'Udanet con la direzione scientifica del professor Walter Damario della Gogo Academy. L'ente camerale inoltre ha messo in palio dieci borse di studio destinate agli studenti più meritevoli. E come Camera di Commercio, a partire dai miei predecessori, hanno dimostrato che abbiamo pensato bene a finanziare questi corsi per istruire dei ragazzi e noi continueremo a farlo. Nel Master sono stati affrontati tutti i temi legati al digital marketing, gli strumenti, i social network, l'e-commerce, la web and social reputation, le tecniche di storytelling e copywriter, video advertising e social tv, marketing e pubblicità ed e-commerce. L'anno scorso abbiamo avuto il 100% di occupati e quest'anno con un'assunzione, prima che il Master termini, con una grande azienda italiana, la ECOBIT, che prende un nostro ragazzo e che diventa responsabile social, dimostra, secondo me nei fatti e con i dati alla mano, che questo è un percorso formativo che ormai nel centro Italia diventa punto di riferimento. Il nostro territorio è stato messo a dura prova, proprio in questo periodo, di difficoltà che ci ha portato il coronavirus e che ci ha dimostrato che i mezzi di informazione via web sono diventati indispensabili, ma probabilmente lo erano anche prima, solo che qui ci ha dimostrato la fragilità se noi non siamo.